Da questa mattina il sottopasso è totalmente pedonale, quindi verrà preso da chi deve usare la linea 1, ma anche da qualche cittadino dal porto, dalle tre uscite, via De Pretis, via Plazzo San Giacomo, via Medina. Abbiamo completato la cartellonistica che è molto fitta, i risultati si vedono perché oggi è affollatissimo di turisti, abbiamo anche indicato che il tassi si può prendere in più posti, così ci si trova già nella direzione giusta e quindi diventa sempre più un'opera utile per i cittadini. Poi più pedoni passano nel sottopasso, più potremo gradualmente eliminare delle fasi semaforiche che vorrà dire traffico più, meglio scorrevole su via Cristoforo Colombo. Interscambio per i mezzi di trasporto, percorso per rendere più rapidi e sicuri gli spostamenti pedonali, agevolazione per il traffico veicolare. Il sottopasso che collega Piazza Municipio col piazzale Angioino del porto di Napoli e le uscite pedonali di via Medina, San Giacomo e via De Pretis assolvia tutte queste funzioni, anche se si potrebbe rimanere anzitutto colpiti per la sua bellezza, incastonato come in un'area archeologica che sta cominciando a mostrare i suoi volti, offrendo anche la possibilità di costeggiare gli antichi moli. I percorsi sono indicati da un'apposita segnaletica e sono serviti data pirulon e ventilazione naturale con la lunga feritoia che fa passare anche la luce del sole. Dal prossimo anno sarà aperta anche la zona museale, per un'opera che rientra nel più ampio progetto di restyling dell'area di Piazza Municipio, disegnato dagli architetti portoghesi Alvaro Siza ed Eduardo Souto de Moura, e consente ora di spostarsi dalla stazione marittima e dal Moro Beverello alla linea 1 della metropolitana evitando l'attraversamento pedonale, un'opportunità preziosa anche per i turisti che arrivano in città con navi da crociera e agli scafi. Questa zona viene arricchita da una segnaletica specifica che agevolerà sia i cittadini che i turisti per le loro destinazioni. Sì, sono contenta che l'infopoint che abbiamo messo qui proprio all'inaugurazione del sottopassi sia così frequentato perché ovviamente tante persone che arrivano da fuori Napoli hanno bisogno di una prima informazione e di avere anche suggerimenti sul da farsi, su come muoversi e i nostri ragazzi che sono lì da oltre un mese danno loro queste informazioni. Facendo io stessa la passeggiata insieme con l'assessore Cosenza da Piazza Municipio fin qui, con le nuove zone archeologiche che sono state anche in qualche modo messe in luce, posso dire che davvero questo è il sottopasso più bello del mondo.